Incidente domenica a mezzogiorno a Piazzola, lungo la statale Valsugana, all'altezza dell'incrocio con via Tremignon a Vaccarino. Ferite madre e figlia che a bordo di una Honda Jazz venivano tamponate da una Mini guidata da un 23enne di Padova. L'urto ha fatto ribaltare nel fossato l'auto. La Mini, dopo un testacoda, ha terminato la sua corsa sull'opposta corsia di marcia. Sul posto i vigili del fuoco di Padova che con i sanitari del suo M118 del pronto soccorso di Cittadella hanno estratto le due donne dal veicolo.